Salve a tutti, questa puntata è tutta incentrata su un avvenimento che c'è stato, che è la votazione della prima legge regionale in Italia, nella regione toscana, che si muove nella direzione di facilitare l'accesso e fare mescicannabinoidi e ne parlo con Valentina Piattelli che è Presidente dell'Associazione Radicale Andrea Tamburi e poi come dice sempre lei è oltre che radicale anche malata di sclerosi multipla, giusto Valentina? Sì, giusto. Giusto? Sì, sì. Io no, è veramente stato fortissimo l'apporto di tutta la categoria anche delle persone che vivono sulla loro pelle, quello che vuol dire essere malati e avere diritto all'accesso ai farmaci e è interessante questo aspetto perché comunque si è equalizzato insieme sia un lato politico ma anche un lato emotivo e l'umano perché poi comunque questa cosa è stata dedicata a Alessia Ballini che ha dedicato gli ultimi anni della sua vita appunto per questa battaglia. Io volevo ricordare insieme a te anche un'altra persona che ha portato avanti questa battaglia fin dall'inizio e che è Pino Cucci, che tu conosci bene e che quindi ti conosci bene e conosci bene e quindi magari ci fa piacere ricordarlo e ricordare che quando l'hai conosciuto Pino? Ma ormai sono parecchi anni, sarà ma perché io ho una mailing list di malati di sclerosi multipla dal 96 e l'ho conosciuto lì, ora non so, qualche anno dopo, però insomma era prima nella mailing list, poi è stato lui, vabbè avevo letto qualcosa sulla cannabis terapeutica, però è stato il primo che ho conosciuto e la usava ecco, essere interessato proprio e quindi lui aveva cominciato lì nel Lazio le prime battaglie anni fa e quindi mi fa molto piacere aver portato avanti anche la sua battaglia che purtroppo Pino appunto come ci ha lasciato l'anno scorso e penso un anno fra poco, c'è l'anniversario adesso. Io ho conosciuto Pino insieme a Alberto Sciolari e non mi ricordo da qualcun altro, siamo andati a trovarlo insieme a casa sua e mi ha tantissimo colpito questo fatto dei biscottini, perché quindi aveva contato che non aveva mai chiamato in casa sua, nemmeno le sigarette, quindi come invece la sigaretta non gli piaceva, allora la moglie gli faceva biscottini col bedo, le risportava di assunzione della cannabis, perché la cannabis poi come farmaco ha una vastissima gamma di applicazioni, ma anche di preparazioni, perché si va dal Sativex per esempio che è un farmaco completamente sintetico e che si usa per via per spray sottolinguale, addirittura, poi c'è il bedrock, quello che abbiamo portato anche in consiglio regionale l'altro giorno, che sono quelle boccettine che poi dentro contengono la pianta vera e propria, cioè si chiama preparato galenico, però in realtà è la pianta così come è, le parti apicali che sono quelle che contengono i principali, i fiori, sì, nemmeno le scime, le fiorescenze, perché sono un esempio, sempre a caso, se avete uso, per esempio c'è anche vaporizzatore, per chi non ha mai fumato sigarette e non intende fumare anche il tabacco, c'è anche questo sistema, te l'hai mai visto questo vaporizzatore? Sì, sì, l'ho visto in occasione del convegno che fecero lì in regione, non l'avevo mai visto neanche io, per me Pino proprio resta l'esempio di questo, oltre che della battaglia che ha fatto, infatti con lui l'abbiamo invitato anche, ma te parlavi del convegno che abbiamo fatto nel 2009 o di un altro? No, quello che hanno fatto in regione l'anno scorso, giugno dell'anno scorso, quello proprio sulle due leggi, prima che decidessero la fusione, fu fatto questo convegno per metterla a confronto e lì furono portati anche il vaporizzatore, da Alberto Sciolari, l'ho trovato, qualcuno glielo prestava. E' un altro pilastro della battaglia della cannabis terapeutica, sicché questa legge che ti ha eseguito tutta fin dall'inizio, è nata da due proposte di legge, giusto? Una che veniva da Enzo Broggi, che è il gruppo BB, con Reggio mi ti sbaglio, magari qualche cosa la confondo, ed era quella in memoria comunque di Alessia Vallini, nel quale lui racconta tuttora l'amicizia e il fatto che negli ultimi anni lei era costretta a procurarsi la cannabis sul mercato nero, questo l'ho raccontata in regione l'altra mattina, perché non aveva l'opportunità di avere accesso ed era l'unica sostanza che l'aiutava a superare i dolori dovuti a una situazione di tumore e quindi comunque lui ha fortemente sostenuto questo aspetto più che altro delle cure palliative, ha molto insistito sull'aspetto delle terapie del dolore più che sulla cannabis in sé. Invece l'altra proposta di legge è venita da Monica Sgherri, che sarebbe forza della sinistra. Sì, perché cambiano spesso il gruppo, ma insomma sarebbe… insomma sello… Ora è il fatto… Comunque insomma ci siamo capiti… Comunque è sempre poi nella maggioranza adesso e quindi c'era il sostegno del PD anche… solo che appunto sulle due leggi il sostegno del PD era nella forma unificata che è stata fatta dopo, all'inizio era chiaramente per la prima che era stata presentata, che non andava bene secondo noi per vari aspetti, perché come hai detto te appunto puntava tutto sulla questione della cannabis per le cure palliative, parlava sempre di fine vita, somministrazione negli hospice addirittura. Infatti nelle varie audizioni abbiamo cercato di fargli capire che in realtà la cannabis può essere usata come una vera e propria terapia per persone che insomma non sono proprio in fine vita, sono malati magari cronici, ma che hanno ancora qualche anno di vita spero, bene almeno… In fine vita è un po' per tutti, prima o poi ci si arriva, non si sa quando ecco… Infatti… Però ecco c'era… La risposta di essere in fine vita per il classico cannabinoide, questo è il discorso… infatti questa cosa qui chiaramente loro avevano sotto gli occhi la vicenda di Alessia Ballini e avevano fatto la legge proprio pensando a quello, il convegno è stato organizzato a giugno, poi l'audizione dei malati e dei medici, mi ricordo così, hanno ascoltato a parte i medici del CERT eccetera, ma c'era anche un medico del Maier che diceva ricordatevi anche dei bambini perché può servire anche per loro, quindi cercare proprio di far capire i molti possibili usi di questa sostanza che ha delle proprietà medicinali, ecco alla fine è questa… Questo il Maier è proprio una cosa assodata, tanto è vero che è in tabella del 2007 e questo ti dimostra che chiaramente al momento che l'hanno messa in tabella vuol dire che hanno fatto tutti gli studi approfondito tutta la documentazione se no non ce la mettevano, del resto seguendo anche la maggior parte dei paesi di tutto il mondo, per cui ormai l'argomento, io trovo che l'argomento quando dicono non siamo ancora sicuri dell'effetto terapeutico della sostanza, è andare contro la legge perché la legge stabilisce chiaramente che la sostanza è stupefacente, sì però è anche terapeutica ed è nella tabella terapeutica, non soltanto il principio attivo ma anche la pianta proprio appunto come si diceva prima. Sì sì infatti, i verdi devo dire che hanno contribuito in diversi punti perché per esempio i verdi sono quelli che invece con lo Giolani ne aiutarono a fare il convegno, quello appunto che ti dicevo del 2009 che comunque riuscì a mettere insieme una serie di associazioni che erano Luca Cruscioni, i pazienti in pazienti, l'associazione Cannabis Terapeutica e veniva anche l'associazione Scalosi Multipla di Bolzano, Mamming e insomma un po' di persone anche da altre regioni e i verdi d'altra parte sono quelli che vedo ora stasera proprio hanno mandato un comunicato dalla Liguria, i verdi da Liguria in cui dicono anche il Consiglio regionale Ligure lo porteremo avanti perché ora dietro alla Toscana naturalmente… Infatti ci sarà l'effetto domino si spera… Sì si spera infatti che sia anche il più veloce possibile, già in Lazio c'è la proposta di legge presentata dai consiglieri… La Campania adesso che dice, saranno i prossimi… Hanno cominciato già a fare i comunicati per cercare un attimo di risvegliare un po' anche bisognerà anche che se ne prenda carico il governo a livello nazionale nel dare comunque qualche maniera delle indicazioni ma anche delle facilitazioni perché alla fine adesso che magari tu non la usi ma te che parli magari con altri malati, al momento in Toscana te sai se una persona qualsiasi volete prendere la Tafira perché ha dei sintomi direttamente riconducibili alla possibilità di uso dei cannabinoidi, che accidente può fare? E' una cosa semplice, no mi immagino? No, no, per niente… Intanto quasi tutti i medici se sanno che si può dare, sanno soltanto per la sclerosi multipla e al limite per malati terminali, se uno non è proprio in quelle categorie famose è molto difficile e poi chiaramente nessuno sa così di primo acchitto cosa fare. Per fortuna ci sono sui vari siti i moduli che uno può stampare con tutte le indicazioni da usare, però bisogna trovare il medico illuminato che abbia voglia di darsi da fare e comunque la procedura è lunga, per alcune malattie è troppo lunga perché effettivamente anche il caso di Alessia Ballini, se avesse voluto usarla eccetera, una malata di cancro sotto chemioterapia così doveva aspettare mesi prima di averla. infatti proprio oggi Alberto Sciolari che tutto sa di queste cose dice che la Toscana era una delle giorni peggiori dal punto di vista poi dell'effettiva praticabilità di ottenere la cannabis tramite la procedura usata finora, quindi c'era particolare bisogno adesso sembra qua di questa cosa. Adesso vediamo. Se questo si tratta di fare anche magari una rete in qualche modo, che poi basterebbe una pagina di un sito web, una rete in cui si può andare in regione per regione e trovare un po' i riferimenti, penso che anche per i medici potrebbe essere interessante esserci su una cosa del genere perché alla fine per loro è anche un target di clientela che si apre, alla fine poi non c'è niente di male se la battaglia politica va insieme anche a quelli che sono gli interessi concretari. Certo, vengo, sì sì. Perché il medico più sommato è probabilmente che ne troviamo poi se non riusciamo a raggiungerli, perché altrimenti è difficile riuscire a raggiungerli perché sicuramente fra tutti loro ci sarà una certa percentuale che comunque è interessata a diventare in qualche maniera riferimento per chi abbia interesse a curarsi da questo tipo di farmaci e anche magari un po' di associazioni, te per esempio questi moduli che si scaricano sono sul sito dell'associazione Corsioni per esempio, vero? Ma io l'ho visto su siti di altre associazioni per la verità, ora non mi ricordo se cannabis terapeutica o pazienti impazienti, mi sembra che lo resta da loro. L'altro è www.pazientiimpazienti.it, l'altro è www.pazientiimpazienti.it, l'altro Sì, sì. ACT, sì. Siccome è registrato, questo riguarda qualcuno che cerca di riferimenti, però una volta scaricato il modulo il passo fondamentale è quello che poi mi chiedono tante persone che mi contattano via via durante i mesi, proprio veramente tante, che sono malati che mi dicono come faccio e a alcune regioni andiamo a dei punti di riferimento dove si può dire, per esempio in Puglia con l'ambità di un soldo c'è un bel gruppo, anche a Tonella, un soldo, c'è un bel gruppo di persone che lavorano su questa cosa e quindi si possono dare dei punti di riferimento, c'è delle regioni che sono completamente abbandonate, o almeno sembrano, magari poi c'è qualcuno in luogo, sicché riuscire a creare un coordinamento è un passo possibile davanti. Hai visto le reazioni dei previsionisti come hanno reagito alla votazione? Sì, come era prevedibile, qualcuno doveva farlo, perché te eri con me alla votazione in regione, in fondo anche quelli si sono espressi contro, non hanno avuto queste reazioni così sguaiate, dicevano dovevate aspettare, se ci fosse stato più tempo saremmo stati a favore anche noi, questo ha detto l'opposizione. Sì, infatti giusto quello dell'Udc ha fatto un attacco un po' più appunto sul fatto che non è provato scientificamente, contraddicendosi anche un po', però anche lui non è che era proprio, certo quello ha detto Gasparri e quell'altro insomma… No, lui ha giocato un po' sul fatto che non bisogna essere emotivo in politica, c'aveva pure tutte le sue reazioni, infatti arriva quel caso degli argomenti razionali, c'era anche l'argomento emotivo, è chiaro, in realtà se era successa la vicenda di Alessia, è chiaro che questo ha dato tutto un aspetto emotivo alla cosa, ci mancherebbe, però comunque ci sono anche dei fondamenti razionali, perché la libertà di accesso ai farmaci è un diritto ben riconosciuto, non c'è nessun dubbio, questo è un farmaco, secondo la legge ministeriale e quindi c'è poco da discutere. Si, Gasparri ha detto che mai questa legge dovrà ricevimento a livello nazionale, io direi che più che mai fino a che c'è lui, però non è che lui sia eterno lì, che è giocato a questa pozzona, può sempre essere una sposta, invece è molto divertente questa del rosario, crociata del rosario, hai detto? Sì, quello mi è sfuggito, l'ho visto, no? Il centro culturale è quanto Valentina, tu non lo sai, sta pregando per noi, ormai da due giorni. È sempre piacevole quando qualcuno prega per noi, a tuo favore, è un pensiero gentile, si affigliati che poi non so quanti sono questi affigliati lefantini perché non credo che siano potessi, spero che non siano tantissimi a dir la verità, più che altro. Allora, eccolo qua, gentile amico, cara amica, questa è la lettera di oggi il centro culturale dell'Efant ha dato inizio alla crociata del rosario perché la Madonna aiuti i più deboli come gli ammalati e i minori che meritano medicinali di comprovate efficacia e sicurezza non la cannabis e per la conversione dei cuori ed elementi dei leader dei gruppi di persone antipredizionisti affinché si avvedano e vi considerino le loro stanze, è fantastico! Eh beh, sì, sì, insomma, via, vabbè, finché pregano e basta, vabbè! Sì, no, io sono un po' preoccupata devo dire, sinceramente mi sono un po' preoccupata! Che porti male, no, non lo so! Vediamo bene, veramente, questa settimana c'è anche stata la disobbedienza civile di Carpato in Olanda, hai sentito qualcosa? Sì, 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 l'ho sentito, non l'ho fatto in tempo a vederla perché era un po' presa da queste vicende nostre locali, ma insomma ha fatto bene anche lui, ecco! Sì, perché anche in Olanda c'è un governo di centrodestra, mentre la città di Amsterdam è in mano al centrosinistra, un po' come Firenze e la Toscana in Italia praticamente! In questo momento dal punto di vista politico, il governo di centrodestra e dall'altra parte invece il governo locale che è di centrosinistra e quindi c'è tutto questo aspetto di volere in qualche modo da livello centrale con la scusa della sicurezza, dall'altra parte però si bloccano anche le attività economiche perché in Olanda comunque c'è un bel giro anche di denaro, di turismo legato, sono soltanto quelle che stanno sulla fascia di confine perché è chiaro che lì poi il sabato e la domenica gli arrivano le orde di ragazzi da tutta Europa che si fanno tutto l'anno sotto il propizionismo e poi si sporgono a Amsterdam chiaramente, quindi per forza che hanno, oppure i paesini di frontiera e quindi sono un po' obbligati anche a rivedere un po' queste politiche. Stavo pensando, mi hai fatto venire in mente questa cosa che anche per esempio a Firenze ma non solo, è buffo vedere tutti questi studenti o ragazzi americani che arrivano qua dove il vino si vende senza grossi problemi, mentre da loro c'è tutti dei regolamenti legati al vecchio proibizionismo sugli alcolici e gli sembra chissà che si ubriano in modo folle dal nostro punto di vista di persone bene o male abituate all'alcol più o meno libero come sempre stavano in Italia e loro invece che vengono da una cultura proibizionista però non solo si hanno questa reazione, si sfogano esatto, quindi ho capito per un attimo questa cosa degli olandesi anche di difendersi da delle orde e arrivano di Bari. Esatto, esatto, penso che a Firenze in Toscana si può capire bene. Eh, infatti, capisco. Siamo per i sistemi di cani ubriachi da anni. Tradici. E ci vogliono progettate. Esatto, quindi capisco un po' anche… però d'altronde lo scotto che si paga per questo, non si sa. Sì, benissimo. Allora, guarda, proviamo un attimo a immaginare quale potrebbe essere il futuro poi di questa… da una parte questa legge bisogna dire che un po' si lamentano i previsionistici, non vorremmo che fosse il cavallo di battaglia con le battaglie antiprevisioniste, in effetti un po' lo è, per forza di cose, perché non lo voglio usare, però per forza di cose lo è, perché a un certo punto poi si applica il principio anche di libertà di cura e di terapia, ti puoi benissimo dire, d'altra parte sempre per i malati, ma visto che posso comprarmelo come farmaco, dimmi perché accidente non dovrei potermelo coltivare, perché a quel punto diventa quasi una cosa naturale, visto che una pianta di per sé è considerata terapeutica, sarebbe un po' come impedire di fare la conomilla, se no ti devi prendere il tavolo e non ti potrei coltivare la conomilla, cioè diventa un po' una cosa, un'arma in questo senso dal punto di vista di antiprevisionista, perché poi allargando le terapie, le terapie non hanno un limite. Certo, certo, infatti, innanzitutto secondo me potrà servire, se davvero comincia ad essere usata dai malati, adesso è solo per i casi più gravi bene o male, schiausi multipla, eccetera, eccetera, non ce l'hanno molte persone per fortuna, però durante l'audizione ricordo… L'epilessia… 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 Infatti sì sì, però è comunque una cosa che riguarda una percentuale minima di popolazione… Lui ha detto, non so che dati se lui l'avessi certo, lui ha detto che 200 persone si curano con la cannabis di affettica in Italia e almeno 1.000 se la procurano almeno nello, non so che dati avesse lui, però li ha dati in consiglio regionale… Sì sì, può essere, però comunque non è una cosa che tutti… che ne so, tutti noi conosciamo persone che prendono farmaci o si prendono noi stessi, ma la cannabis come farmaco invece è abbastanza rara, se questi sono i numeri… se si estende l'uso della cannabis come farmaco sarà più evidente per tutti, per chi non ha mai visto nessuno farsi una canna… proprio il fatto che possa essere usata una medicina e che non è una sostanza… perché è proibita e demonia… soprattutto sdemonizzarla, togliergli quell'alone di cosa che fa paura… da quel punto di vista potrebbe essere utile appunto il cavallo di troia che temono gli antiproibizionisti e questo alla fin fine… anche perché ricordo… Dimmi… Sì no, dicevo all'audizione Nunzio Santa Lucia, tossicologo del CERT, fece l'esempio proprio di chi la usa al posto degli ansiolitici, gli ansiolitici danno dipendenza, è solo davvero una droga… mentre appunto la cannabis non dà dipendenza e può essere usata in certi casi in alternativa a questi… quindi per esempio c'è quindi un uso molto più diffuso in quel caso lì, non è per malattie gravi, ma così capita a tutti da avere un periodo in cui magari c'è bisogno di un blando ansiolitico e può essere quello… però quello nel futuro, non ora… è interessante questa legge, è una buona legge tutto sommato perché da due punti di vista è molto aperta, quello dell'ammissione della pianta come sostanza proprio di per sé da una parte e la non mettere limiti alle indicazioni, perché se uno mette limiti alle indicazioni appunto uno dice non dormo, l'insonnia e già questa può essere un'indicazione, sicuramente è vero che in questo senso è un cavallo di troia perché poi appunto siccome ognuno di noi ha un disagio che può accampare come scusante… Sì, però se ci sentono… …è vero… Io penso che questa battaglia a questo punto dovrà essere combattuta a livello locale anche dalle persone direttamente interessate, non perché non debba interessare anche agli altri, però penso che una volta avviato una serie di regolamenti regionali, starà anche poi localmente a chi è interessato andare a chiederlo e fare una battaglia che sia personale o che sia in un gruppo per ottenerlo, ci vuole una questione anche di chi deve usarlo… Sì, ora è importantissimo vedere questi regolamenti attuativi o quello che sono, come saranno perché la legge effettivamente così come ora non è che dice tanto di più di quello che già dicevano i vari decreti, è vedere appunto nell'attuazione come andrà, quindi quello andrà seguito, sarà dura ma lo faremo ormai… D'altra parte guarda, per esempio in Germania esistono degli ospedali che sono… anche quelli sono specializzati più che altro su lascrevoli, sono ospedali proprio riservati a questo tipo di malattie, più che lascrevoli decenerative del sistema nervoso in generale e loro coltivano proprio l'ospedale coltiva al suo terreno e lì coltiva la canapa che usa poi per i medicinali, quindi sono tutti… e anche in tanti altri paesi, si sente in Israele per esempio l'hanno usata per i vecchietti negli ospizi, cioè per le persone anziane per le visitanze protette, che è molto meglio dargli la sera, anche artisana perché indica per forza di non farci le canne, i vecchietti, cioè anche in altre maniere, invece che aveva, che ne so, le gocce di enna e tutti i vari olpinol, tutti i vari psicofarmaci che vengono usati per sedare alla fine delle persone… e poi si arriva ridicolo che per esempio in carcere, te finisci in carcere perché ti hai coltivato una pianta e in carcere ti hanno gli psicofarmaci per sedarti, o non si spendeva meno se te la lasciavano fare… Ma infatti è proprio l'assurdità completa di questa cosa… Piano piano è talmente una cosa irrazionale che alla fine si altera fuori, obbligatoriamente, è una battaglia che non… ecco l'unica obiezione che gli si può fare da parte dei prohibitionisti per accusare che possa essere usato come un cavallo di troia, però l'altra parte è questo… e l'altra parte è questo… stanno le cose… possono fare tutte le piocciate del rosario che vogliono… Sì, infatti… Va bene Valentina, io guarda, penso che abbiamo fatto i nostri 25 minuti, è andato tutto bene, c'è qualche altra cosa che ci avevi in mente di voler dire sulla giornata che abbiamo vissuto lì al Consiglio regionale… Sì, semmai volevo dire una cosa, su questa battaglia che abbiamo fatto, dell'importanza di informarsi bene su tutte le fasi della cosa, perché nella mia piccola esperienza, ormai lunga, tutte le battaglie che ho vinto in qualche modo sono state quelle in cui avevo acquisito una conoscenza dell'argomento abbastanza significativa, perché soltanto in questo modo si riesce poi a ottenere qualcosa di utile davvero e anche, non solo in modo personale, però penso che se si è riusciti a fare questa cosa è stato perché in questo Consiglio regionale c'erano parecchie persone che alla fin fine se ne intendevano a vario titolo, è stata importante per esempio la figura di Lucia Matergi che è una consigliera regionale che è anche ginecologa mi sembra, insomma comunque medico e infatti ha capito subito che la prima legge che puntava tutto appunto sulla cure palliative di fine vita e così era sbagliata, non teneva qualcosa di ovvio, infatti era carente, ha capito e è riuscita essendo appunto medico a farlo capire anche ai suoi colleghi e poi perché c'era anche all'opposizione una figura come Taradas che non poteva prendere posizione come ha fatto Gasparri, essendo ben noto l'argomento in parecchie persone, sia del Consiglio regionale, si è potuti arrivare a un risultato del genere. Sì, sicuramente Taradas ci ha fatto anche un bel intervento a favore, è stata una cosa comunque anche questa è importante, d'altra parte noi gli abbiamo fatto un messaggino migratorio, abbiamo detto guarda che siamo più in fondo che ti guardiamo. Sì, lui ha sorriso. Non poteva fare diversamente. No, infatti. No, comunque alla fine poi quelli contrari erano un quarto circa. Sì, erano mi sembra 12 o 13, 13 voti contrari su 28 a favore, poi anche gli astenuti erano… Il fatto che il PDL abbia lasciato libertà di scelta… Sì, è importante. Ho visto… Non ha votato nessuno a favore… Che cosa? Hai visto mica che modifiche hanno fatto? Perché all'ultimo l'opposizione ha contrattato alcune piccole modifiche. Io credevo alla legge, invece oggi ho letto che è all'ordine del giorno, non alla legge. Sì, perché all'ordine del giorno hanno votato a favore. Sai che non lo so che modifiche sono, perché quelle colleghe sono… Sì, e abbiamo fatto una cosa che esca sulla gazzetta e vedevamo un po' che cosa è. Infatti abbiamo visto che andavano a far lottare, a confabulare… Eh, infatti. L'avremmo anche pronunciato, ci ritiriamo… Prima di dire che ci ritiravano 15 minuti, in riunione hanno detto con qualche piccola modifiche, aveva già pronunciato la cosa, quindi avevano fatto una mia per cui ci sono stati di riparare qualcosa. Infatti, anche il fatto che abbiamo votato a favore dell'ordine del giorno, lì è importantissimo, se ci si pensa, insomma, il PDL vota in un ordine del giorno e comunque meno male invita il governo a proseguire su questa strada. Ma sai, guarda, proprio quando sono esperienze personali, io mi ricordo anche al convegno del 2009, all'ultimo ci arrivò alla porta e venne lì e fece un bel intervento un senatore PDL, ora non vorrei dire una scemenza perché non mi ricordo se era una S o una Z, se saia o zaia, saia credo che sia. E lui arrivò perché il fratello è un medico con la moglie malata di sclerosi e che quindi aveva provato proprio in casa poi l'efficacia invece di queste cure e quindi si rendeva conto che comunque non era giusto per un aspetto di predizionismo e demonizzazione della pianta andare addirittura a toccare i diritti del malato, quindi è una cosa liberale insomma, l'altra parte della centrodestra è un'affeggiamento liberale di giuria che si potrebbe anche aspettare diciamo. Sì, 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 appunto, infatti. Capo cavallo, ok. Eh, però, insomma, proviamo. Va bene. Grazie. 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 Grazie.